lotta integrata, obbligatorie e volontarie. La difesa delle piante con prodotti fitosanitari ha inizio con la scoperta della proprietà fungicida del solfato di rame oltre un secolo fa. Per molto tempo la difesa delle piante è stata assicurata da prodotti di origine minerale come lo zolfo, rame e suoi sali o vegetale come quassine, solfato di nicotina ed altro. A partire dagli anni 50 con la disponibilità di nuovi insetticidi e fungicidi di sintesi si riteneva che questi prodotti costituissero la risoluzione definitiva dei problemi relativi alla difesa delle culture. Questa prima fase è stata caratterizzata da un uso crescente di questi mezzi di produzione, seguita da una radicale trasformazione dei sistemi di coltivazione delle piante, accompagnata da considerevoli aumenti della produzione agricola. L'impiego indiscriminato di questi prodotti disindesi a largo spettro d'azione mirava ad ottenere la totale distruzione degli organismi nocivi, con trattamenti cautelativi, ripetuti e determinati ad intervalli seguendo determinati fasi filologiche delle culture, senza tener conto della presenza del parassita, dell'entità della popolazione o del rischio reale del sviluppo della malattia. L'ottimismo generato da risultati derivanti dall'uso massiccio dei prodotti di sintesi si è poi ridimensionato a causa dei loro effetti negativi sull'ecosistema agrario, inquiramento del suolo, dell'acqua e dell'aria, eliminazione di organismi utili, insorgenza, fenomeni di esistenza. La lotta calendario. Il primo esperimento di lotta programmata è stata quella calendario. È un metodo di difesa più vecchio, in gran parte dismesso con l'introduzione di nuove metodologie e strategie di difesa. Si basa sostanzialmente sulla conoscenza delle fasi filologiche delle piante agrari, ad esempio il germogliamento, la fioritura, l'allegagione, la maturazione, eccetera, e sulla possibilità di avere infestazioni o infezioni in quel momento. In questo concetto di difesa, la protezione viene concepita sempre preventivamente, laddove sussista la suscettibilità fenologica della cultura. La protezione deve coprire l'intera durata della fase fino a perdurare dello stato di sensibilità. Pertanto, i trattamenti vengono ripetuti a intervalli regolari e spesso senza valutarne l'effettiva necessità. In altri termini, con la lotta guidata, sono le fasi fenologiche della pianta a definire la necessità di impostare la strategia di difesa. Una volta effettuato il primo trattamento, per molte avversità, la ripetizione degli interventi si basa su turni fissi prestabiliti, in funzione della persistenza dei prodotti impiegati. Con il passare gli anni, anche questo tipo di lotta ha dimostrato i suoi punti deboli. Infatti, il punto debole della lotta a calendario risiede nel presupposto che la difesa debba essere condotta indipendentemente dalla sua necessità. Quindi non vi è certezza della presenza del parasita e delle sue entità, comportando una serie di effetti collaterali relativi, tra cui la resistenza dei fitofagi ai numerosi insetticidi, la rottura degli equilibri biologici e la conseguenza di trasformazione delle specie fitofaghe. Se da un lato, come già detto, la difesa del calendario presenta degli aspetti negativi, almeno la sua applicazione ha dato inizio ad un miglioramento dell'approccio fitoiatrico delle colture agrarie e quindi si è passati a sistemi di lotta più razionali e con un minore impatto ambientale. Lo step successivo è stato quello della lotta guidata. La lotta guidata ha rappresentato la prima tappa verso la razionalizzazione della difesa chimica, delle colture, introducendo il concetto della soglia di intervento o soglia economica, in base al quale il trattamento va eseguito solo quando le avversità raggiungono una pericolosità tale da giustificare il costo dell'intervento. In pratica, conviene eseguire il trattamento quando il potenziale danno arrecato alla cultura è superiore al costo che si deve sostenere per eseguire il trattamento. Come si valuta la soglia di intervento? La soglia di intervento è un concetto molto variabile che si basa sul monitoraggio della popolazione o sul danno diretto di un campione rappresentativo, il campionamento. Nella pratica del monitoraggio può essere fatto in diversi modi. Cattura o conteggio degli adulti attraverso trappole cromotropiche o afferormori, cattura conteggio degli organi infettati da spore o conidi di importanti malattie crittogamiche o con discorso di captaspore volumetrici. Il campionamento può essere fatto anche in altri diversi modi, ad esempio dal conteggio dei germogli attaccati, dal conteggio dei frutti e delle foglie colpiti o dal conteggio delle larve, delle neanisi o dal conteggio delle uova, degli insetti parassiti. Il vantaggio della rotta guidata rispetto alla rotta a calendario è che derivano sia da diretti che indiretti. I vantaggi diretti sono i vantaggi di tipo economico, derivato dal minor numero di interventi che andiamo ad attuare, e secondo invece di tipo ambientale e secondario. Quindi si riduce l'impatto ambientale dovuto alla difesa fitosanitaria. Lo step poi successivo, diciamo definitivo a questo punto, è quello della lotta integrata. La lotta integrata è un sistema di controllo degli organismi dannosi volto a razionalizzare e ottimizzare l'utilizzo di tutti i fattori e le tecniche di difesa disponibili. In pratica i punti fondamentali su cui si sviluppa la lotta integrata sono quelli di conoscere alla biologia almeno dei parassiti più frequenti, effettuare accurati monitoraggi nei periodi a rischio per individuare tempestivamente i parassiti, verificare la presenza e la densità dei nemici naturali, valutare l'intervento in base a una soglia di danno o soglia di intervento, scegliere il momento più opportuno per effettuare i vari tipi di interventi, applicare strategie di difesa integrata con priorità agli interventi biologici, biotecnologici e meccanici, in caso di trattamenti chimici, scegliere il formulato meno tossico e più selettivo. Poi oltre a questo noi andremo ad applicare le appropriate tecniche culturali, quindi lunghe rotazioni, concimazioni equilibrate, lavorazione del terreno, paccia matura, varietà resistente e tutto il resto. Inoltre negli ultimi anni anche l'introduzione di nuove metodologie e di innovative strategie di difesa. Un esempio su tutti è la confusione e il disorientamento sessuale o tecniche di cattura massiva per quanto riguarda gli insetti. All'interno della lotta integrata noi però possiamo a questo punto andare a valutare due prospettive, quella che è la lotta integrata obbligatoria e quella che è la lotta integrata volontaria. Parliamo sempre di lotta integrata, l'obbligatoria è quella che dobbiamo rispettare tutti i coltivatori che vanno ad attuare e a lavorare nella loro azienda, infatti la lotta integrata prevede il rispetto dei principi generali, il rispetto scoporoso dell'etichetta dei prodotti, la formazione per gli operatori quindi del patentino e fitofarmaci, controllo funzionale dei macchine lavoratrici, corretto stoccaggio dei prodotti fitosanitari e registro dei trattamenti. Volontaria è, parliamo degli stessi concetti, in più è che l'azienda si va ad assoggettare a un disciplinare di produzione regionale. La difesa integrata volontaria è un sistema realizzato attraverso norme tecniche specifiche per ciascuna cultura e indicazioni fitosanitarie vincolanti, disciplinare di produzione quindi, comprendendo le pratiche di agronomiche fitosanitarie e limitazioni nella scelta dei prodotti fitosanitari e nel numero di trattamenti. La lotta integrata volontaria può essere una scelta libera dell'azienda che decide di assoggettarsi alla lotta integrata volontaria per rilasciare e certificare le proprie produzioni o in alcuni casi può essere un passaggio obbligatorio come nel caso in cui degli accordi agroambientali dare delle misure del PSR come quella a basso impatto ambientale che lo danno come un prerequisito ai fini della domanda stessa. Veniamo alla certificazione. Oggi se noi effettuiamo lotta integrata possiamo certificare le nostre produzioni con un marchio ministeriale. A livello comunitario sono stati istituiti diversi tipi di sistema di qualità volti a riconoscere e identificare prodotti di qualità attraverso marchi o luoghi comunitari nazionali che prevedono il controllo e la certificazione da parte di organismi terzi ed indipendenti appositamente autorizzati, gli organismi di controllo. A livello nazionale sono stati riconosciuti ad oggi il sistema di qualità nazionale di produzione integrata che è l'SQNPI e il sistema di qualità nazionale di zootecnica. Il marchio SQPNI, quindi sistema qualità produzione nazionale integrata, è operativo dal gennaio 2016, è applicabile a tutte le produzioni vegetali trasformate e non e consente di utilizzare un marchio sul prodotto oggetto di certificazione, da sottolineare la possibilità di adottare l'SQNPI anche solo per una cultura aziendale. L'SQNPI prevede la definizione di linee guida nazionali che rappresentano uno strumento di indirizzo volto a una sempre maggiore armonizzazione delle norme tecniche regionali nel rispetto delle peculiarità climatico-ambientali, culturali e fitosanitarie che contraddistinguono le diverse zone agrarie del territorio italiano. Indicano i criteri di intervento, le soluzioni agronomiche e le strategie da adottare per la difesa delle culture e del controllo delle intestanti, nell'ottica di un minore impatto verso l'uomo e l'ambiente, consentendo di ottenere produzioni economicamente sostenibili. Al fine di garantire il rispetto delle peculiarità climatico-ambientali, ogni regione può differenziare le proprie norme tecniche dalle linee guida, motivando le scelte. L'adozione disciplinare di produzione integrata regionali e l'implementazione di un rigoroso sistema di rintracciabilità volto a dimostrare che i prodotti certificati provengono da aziende agricole che applicano i succitati disciplinari. Le aziende possono aderire al sistema qualità nazionale di produzione integrata in forma singola o inassociata, consorsi, cooperative e associazioni. Oltre alle aziende agricole possono aderire al marchio sistema qualità nazionale di produzione integrata anche condizionatori, trasformatori e distributori nel caso di prodotto commercializzato sfuso. Vediamo il sistema dei controlli. Il sistema qualità nazionale di produzione integrata provvede un doppio livello di controllo finalizzato a dimostrare l'applicazione dei disciplinari di produzione integrata regionali in varie fasi di produzione, dalla fase agricola, trasformazione, confezionamento ed identificazione del prodotto finito attraverso il segno distintivo qualità sostenibile. Il sistema dei controlli si sviluppa su due livelli. Autocontrollo aziendale che prevede la verifica dei requisiti di conformità da parte degli operatori inseriti nel sistema qualità nazionale di produzione integrata per le attività svolte presso i propri siti produttivi, ad esempio registrazione delle operazioni culturali, acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari, fatture e acquisto fitofarmaci, concimi, risultato analisi del suolo, piano di concimazione, esito taratura delle macchine ruotatrici ed altro. Controllo. Da parte di un organismo di certificazione appositamente autorizzato dal MIPAF, il controllo viene effettuato sul cento per cento degli operatori aderenti in forma singola, mentre nel caso degli operatori associati è prevista la visita iniziale sul campione corrispondente alla radice quadrata delle aziende associate. Vantaggi. L'SQNPI è stato concipito dal MIPAF per diventare uno strumento competitivo, finalizzato alla valorizzazione e differenziazione dei prodotti sul mercato. Il segno distintivo ministeriale qualità sostenibile è quindi in grado di assicurare al consumatore la coltivazione dei prodotti secondo tecniche agronomiche rispettose dell'ambiente e della salute dell'uomo. La produzione integrata secondo l'SQNPI permette di ottemperare gli obblighi di leggi in materia di difesa integrata, PAN, di rispondere alle pressanti richieste derivanti da un mercato nazionale e internazionale sempre più attenta alla modalità di coltivazione. Il Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata, proprio perché il sistema di qualità riconosciuto secondo le regole comunitarie, permette inoltre alle aziende agricole in forma singola e in forma associata di accedere alle misure di finanziamento pubblico che vede il riconoscimento sia dei costi di certificazione ma anche del mancato reddito per determinati metodi di coltivazione. Il marchio può essere utilizzato a titolo gratuito da tutti gli operatori dell'Unione Europea, compresi nelle categorie dei produttori, condizionatori, confezionatori e distributori che aderiscono all'SQNPI e ne fanno un uso finalizzato a contraddistinguere esclusivamente le produzioni ottenute conformemente allo standard di tale sistema e certificate dagli organismi di certificazione. Il marchio SQNPI può essere usato anche in abbinamento con marchi privati o collettivi che qualificano il prodotto sulla base di standard diversi purché non si ingegni non si ingeneri confusione nel consumatore. Grazie.